morto salve ragazzi del 38 si continua con hallo che ho dovuto dividerlo in parte che comunque sono tutti che troppo eravamo rimasti scusami ma ciò facciamo la versione classica quando abbiamo fatto una strada qua ce n'è uno la donna uno apposto ma devo andare a distruggia questi guarda la in fondo la intorno l'avevo visto però che arma schifosa c'era qualcuno altra erano quindi metterai di lato ok no dove cerca di farcela si ma stavolta andiamo con la lì con il normale guarda che ti avevo visto quindi un mattino più di appartiti però come correre con l'altro a cambio di idea non sto attendo quando mi sparano io lo testo io sto attendo quando gli sparano ma non li ho si ho credo però non posso sapere questo proprio Grazie. L'altro non lo vedo più. Sgamato. Cerchiamo di rifare questa parte, per farla bene. Ehi, però, vanno malissimi. Non potrebbe avere una mira così forte. Questo è pericolosissimo. Guarda com'è tutto questo modo di sparare, però, eh. Siamo in sbarazzo di quello, ragazzi. Siamo in sbarazzo. Siete in due. Non avevo capito che eravate in due. Sappi, ma qui sono sempre in due. Non ci provare, male di questa torretta. Chi è? Scusate che sono tantissime concentrati che dopo due o tre volte morto non è che sono tanto contento. Scusate. 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 dovevo che devo fare se no devo andare con la cattiveria assa fa assa fa guarda devo andare con la cazzina devo andare con la cazzina come si dice proprio quella cosa come si dice proprio come si dice proprio scusate sono totalmente concentrato adesso mamma mia no è stato una pesantezza mamma mia ecco lì posso tutto andare dritto 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 per dritto per farli fuori e no mi stavano massacrando sono sempre gli stessi fino a un certo punto mi sono stancato oh la soddisfazione che sono morti tutte eh però eh che cavo esagerazione eh che cavo dai che non vedo l'ora di giocare al 2 che hai due pistoli due fucili una figliato proprio alternavi variabili le armi non vedo l'ora di giocare al dai adesso sono felice e contento come brutto questo mi muore malissimo non vedo l'ora di giocare al ora si che si ragiona la soddisfazione mamma mia mamma mia è a te non vedo l'ora di giocare al questo gioco è una cosa la fisica Bravissimo Quanto so bravi a giocare qua Mamma mia Andiamo Ne pensavate La donna ha fatto una carneficina E in macchina 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 Grazie a tutti. Sono cretino io, lo ammetto, lo ammetto, non lo nego. Se vuole fare una cosa troppo oppi è andata malissimo, non male. Bello! Qualcun altro? Dovrebbe arrivare il veicolo. 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 Oh, grazie. Oh, grazie. Molto male. C'era qui un altro veicolo. Il 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 veicolo. Stancato, andiamo Abbiamo fatto una bella partita Però ora dobbiamo ritornare Dove prima Seguiamo il percorso Oddio, qua c'è la neve Bellissimo Ma non è bello che io so così concentrato Perché è un gioco che non faccio da un botto L'avvicinamento Il governo accetta il cavallo e spalle Siamo in trappola Merda Rai 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 Ma non è carica Il tuo padrone Ah, lollo, gramps Ahia mappiare in pieno Ma roba che brutta botta Fai uno di tutti Mamma mia mi sto Struppiando Mamma mia ok Ah ecco dov'era Ah quindi stavo facendo la zona giusta Allora Non state zitti che state morendo malissimo Vabbè Andiamo Però per la prossima notte ragazzi Qui del 28 con i poveri steam marine che moriranno malissimo Lo sappiamo Qui del 28 al prossimo video Passo e chiudo Bene